Ci sono persone che si affezionano ad un oggetto, un maglione, una macchina o che si affezionano a un ristorante e ci tornano sempre a mangiare. A Fano c'è un ladro che si è affezionato a una villetta e ci torna spesso, ben quattro volte. Il protagonista di questa spiacevole avventura è un professionista affanese che grazie però all'impianto di telecamere che ha installato ha potuto documentare le, diciamo, sgredite visite dell'affezionato ladro. È vero, è vero, ormai è la quarta volta, quarta, quinta volta, poi magari i tentativi, quelle che ha fatto noi non li conosciamo, però quelli evidenti ormai sono quattro, cinque volte che ha lasciato traccia. Dopo aver rubato tutta l'attrezzatura e quindi obiettivamente adesso ha tentato il colpo gobbo, magari entrando dentro casa chissà cosa pensando di trovare. Ha portato via qualcosa da mangiare, probabilmente si è contentato di quel che ha trovato e nient'altro. Era molto destra, insomma, una frazione con destrezza. Una porta che tra l'altro non era facile da aprire perché c'aveva tre blocchi e lui l'ha aperta forzandola in otto punti diversi, poi con dei calci. Siamo diventati vulnerabili sotto tutti i punti di vista. Quello che dispiace è che soprattutto mette in cute timore anche la famiglia stessa, perché mia figlia e mia moglie da sole adesso non ci vanno più. Ora immagini e documentazione sono nelle mani della polizia che sta indagando sull'accaduto. E vista la spavalderia dell'intruso che si mostra a viso scoperto, speriamo presto lo assicuri alla giustizia.